Buongiorno a tutti, ci attende una giornata piuttosto importante sui principali mercati europei e statunitensi dopo la forte discesa alla quale abbiamo assistito ieri sui mercati azionari americani, in particolar modo è sceso molto il Nasdaq che nelle ultime sedute ha sottoperformato sia Dow Jones che Standard & Poor's 500. C'è un attimo di speranza rappresentata dai dati pubblicati da Alphabet e Microsoft, se non erro perché non ho ancora potuto approfondire tutto, lo farò ovviamente quando terminerò questo video, mi sembra che Microsoft in After Hours fosse decisamente comprata, infatti come vedremo tra poco ci sarà una piccola sorpresa rispetto a quanto accaduto ieri perché ci sono comunque a parte Russell i futures americani moderatamente positivi, quindi vuol dire che questi dati sono stati sicuramente apprezzati di due leader di mercato come appunto Alphabet e Microsoft. Partiamo come nostro solito dagli indici americani e vi devo confermare quanto vi avevo già detto ieri, ovvero che siamo in una fase di consolidamento, al momento non è ancora una situazione così preoccupante, però il Dow è impostato per andare a testare la media mobile a 100, 33.369 e poi il minimo del 3 di aprile che è 33.245, sotto poi abbiamo a 33.090 la media mobile a 50. Standard & Poor's 500 in una situazione tecnica un po' più delicata perché è molto più vicino al primo supporto importante che è 4.056, sotto avremo 4.034 media mobile a 50 e poi c'è questo minimo del 30 di marzo che è 4.032 e la chiusura del gap a 4.030, in questo caso parliamo del massimo del 29 di marzo. Nasdaq invece ha rotto al ribasso nella seduta di ieri perché è andato sotto questo livello che vi avevo già peraltro evidenziato del minimo del 6 di aprile a 11.898, la chiusura è stata 11.799, poco sopra la media mobile a 50 che transita a 11.786, il livello successivo è la chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 28 di marzo, 11.752. Più residenza da parte delle borse europee, Milano esclusa perché Milano come rivedremo ha sofferto decisamente di più, perché ovviamente il discorso legato a First Republic Bank che è letteralmente crollata dopo che è emerso, che sono stati ritirati più di 100 miliardi di depositi e questo rimette un po' in discussione, come vi ho già detto nel video di ieri sera, la situazione complessiva sul sistema bancario che ha ancora delle criticità da risolvere. Per quanto riguarda il DAX è in pieno trading range, ora è ovvio che se inizia una correzione più significativa sui mercati americani è difficile che il DAX vada a rompere al rialzo, però non vedo al momento grossi timori, al massimo potrebbe stornare fino a 15.625 in questa fase, però è impostato addirittura il DAX per poter andare a rompere al rialzo e di conseguenza fare un altro piccolo step che è 15.962 e poi 16.090. Sembra invece un po' arrivato il CAC, perché ovviamente il CAC non a livelli del Fuzimib, però comunque a Societe Generale, a BNP Paribas, a Crédit Agricole, quindi il peso delle banche sicuramente sull'indice francese è molto più significativo rispetto a quanto accade sul DAX. In questo caso il target potrebbe essere 7.485 che è il massimo del 13 di agosto. Anche l'Eurostox sta dimostrando più resilienza, in questo caso il supporto è quest'area di minimi allineati e siamo ormai all'ottava seduta di questo turning range piuttosto stretto, il livello a cui mi riferisco è 4.363, dobbiamo preoccuparci solo in caso venga perso questo livello con primo target 4.278. L'Eurostox Banks, ve l'ho già detto ieri, ovviamente avendo assistito a vendite piuttosto importanti sul settore bancario, è normale che l'Eurostox Banks abbia perso in questo caso il 2,70%, ha ancora la possibilità di fare una base su questo supporto statico il cui minimo è 103.6, questa mini area di supporto statico, sotto questo livello però andremo subito a 101.56 e poi a 100.48. Veniamo adesso al nostro Fuzzi Mib Futures e vedete che l'impostazione tecnica è più negativa perché ovviamente essendo state vendute in maniera significativa le banche ieri ed essendo tornato bene o male dopo i rialzi degli ultimi mesi un indice bancocentrico, anche se vi ricordo che noi teniamo sempre conto del Fuzzi perché non subisce lo stacco dividendi, per cui è un po' più lineare nel proprio andamento, ieri la chiusura è stata a 26.915, addirittura sotto la media mobile a 50. per cui per oggi è possibile un test a 26.840 e poi a chiudere il gap lasciato aperto a 26.825 sul massimo del 6 di aprile e qui si apre una situazione pericolosa se dovesse perdere anche questo livello perché a quel punto sarebbe probabile un ritorno a 26.390 poi 26.295 e eventuale ritest della media mobile a 100 a 26.120 Veniamo adesso ai Fuzzi Mib Futures vi dicevo che c'è una sorpresa positiva sui Fuzzi Mib Futures e il Nasdaq 100 addirittura più 1.41 secondo me, ripeto, ve l'ho detto già in apertura di video e per i buoni risultati pubblicati da Alphabet e soprattutto da Microsoft mentre Russell perde lo 0.43 DAX al momento meno 0.39 l'Eurostox meno 0.46 in Asia Nikkei meno 0.69 Topix meno 0.88 rimbalzo corposo però, se vi ricordate, ieri era sceso in maniera significativa del Hang Seng più 2.54 stesso discorso per il Chinese Share più 1.42 Singapore più 0.46 e Cospi meno 0.20 notizie macro c'è abbastanza poco prima di farvele vedere visto che mi avete iscritto mi avete iscritto anche privatamente sulla mail info chiocciola andreacartisano.it e vorrei soffermarmi anche sulla stagione trimestrale perché giustamente dovrebbe essere poi confermatelo nei commenti come al solito domattina prima dell'apertura dovrebbero uscire i dati di STM e questo è uno dei titoli sui quali ci concentreremo prima di terminare questo video comunque a livello di dati macro c'è poco è uscita per esempio l'inflazione in Australia più 1.4 da più 1.3 e quella trimestrale, quella annuale più 7 da più 6.9 però come vi ho già detto quello che accade in Australia è un po' diciamo alieno rispetto a quello che sono poi le aperture dei mercati in Europa poi non ci sono grosse altre notizie sui mercati europei notizie macro la notizia più importante di giornata alle 14.30 che a Wall Street escono i principali ordinativi di beni durevoli per il mese di marzo previsti a meno 0.2 adesso facciamo una cosa leggermente diversa dal solito però che può comunque essere utile andiamo ad analizzare i titoli su cui io mi concentrerò per esempio in queste sedute oggi sicuramente parto da STM perché ieri comunque è stata testata la media mobile a 100 in realtà in intraday è stata persa abbastanza nettamente perché il titolo ha fatto minimo a 41.715 ha poi chiuso a 41.88 la media mobile a 100 è 41.90 c'è questo attrattore importante che è il gap lasciato aperto sul massimo del 25 di gennaio che è 39.455 e secondo me non è detto che venga chiuso perché uscendo domattina prima dell'apertura i dati finanziari la trimestrale il titolo potrebbe fare un rimbalzo se i dati piaceranno al mercato quindi è il titolo sicuramente da mettere in watch list oggi l'altro titolo su cui bisogna concentrarsi secondo me è Telecom perché Telecom comunque è in una configurazione tecnica piuttosto negativa per il breve ormai è vicinissima a chiudere il gap lasciato aperto sul massimo del 27 di gennaio che è 0.25.53 ma potrebbero esserci anche delle ulteriori accelerazioni ribassiste fino a 0.24.34 e poi sulla media mobile a 200 e parliamo di 0.23.92 allora in questo caso al di là della configurazione tecnica ripeto piuttosto negativa di breve periodo adesso è emerso che sembra in discussione la figura di Labriola l'amministratore delegato io credo che non sia un manager che possa gestire nel modo migliore le difficoltà che ha Telecom a Tavi che però allo stesso tempo devo dire che Telecom è veramente un carrozzone difficilissimo da mettere a regime perché comunque ci sono errori tra virgolette storici soprattutto i due leverage payout quello di Colannino e quello di Tronchetti Provera che pesano come un macigno sulla posizione finanziaria netta negativa del titolo poi non tanto un titolo ma dovremmo concentrarci sul settore bancario qui la situazione è un po' diciamo diversa da titolo a titolo perché per esempio Biper vedete è ancora impostata molto bene e è vicinissima ai massimi di periodo che sono stati toccati nella seduta del 9 di marzo a 2,859 il massimo di breve è stato 2,761 e c'è da chiudere un gap lasciato aperto a 2,783 anche intesa tutto sommato sta tenendo e aveva peraltro chiuso già il gap lasciato aperto a 2,52 nella seduta del 20 di aprile scorso e più che altro ci può essere sì un consigliamento un ritorno alla media mobile a 50 2,433 poi questo 2,392 poi c'è un altro micro gap qui a 2,358 ma vi faccio notare come giustamente mi potreste dire perché hanno staccato come siano più in difficoltà invece Banco BPM e soprattutto vedremo Unicredit perché vedete che l'impostazione di Banco BPM dopo un massimo a 4,283 ieri siamo arrivati a 3,969 e l'analisi tecnica ci dice che questa debolezza di breve post stacco potrebbe portare il titolo ad arrivare alla media mobile a 50 3,878 e poi a chiudere il gap lasciato aperto a 3,83,3 stesso discorso per Unicredit che ieri l'intraday ha perso la media mobile a 50 18,25 ha fatto un minimo a 18,092 ma poi ha chiuso a 18,35,4 e anche qui mi pare abbastanza possibile un ritorno fino a 17,86 17,56,6 eventualmente 17,35,8 ultimo settore che sta facendo sicuramente fatica nelle ultime sedute è il settore petrolifero soprattutto Eni ha dato un segnale brutto ieri perché questa è un engulfing bearish per cui chiama un test sulla media mobile a 50 13,38 e poi eventualmente a 13,166 Tenaris ha dato un ottimo segnale lunedì e un segnale invece piuttosto brutto ieri però secondo me finché non perde 12,60 si può comunque mantenere il titolo in portafoglio per chi come me ce l'ha invece Saipem sta cominciando a impostarsi in maniera piuttosto negativa e se dovesse perdere 1,34,5 almeno fino al test della media mobile a 101,301 ci può arrivare e poi fino a 1,225 ma voglio soffermarmi e lo devo prendere ovviamente fuori dal Fuzzibib su Saras perché Saras è un titolo che mi chiedete in tanti e vedete che Saras invece è un po' in caduta libera perché se pensiamo che il 3 di aprile valeva ancora 1,47 ieri è andata a fare un minimo sotto 1,20 e ha perso ha confermato la parità della media mobile a 200 che è 1,241 è sicuramente un titolo molto interessante perché quando potrà fare finalmente una base io personalmente ne valuterò l'acquisto perché secondo me un rimbalzo anche piuttosto corposo in vista del dividendo che dovrebbe essere staccato poi lo vedremo magari sempre più nel dettaglio lo scrivetelo nei commenti nella seconda metà di maggio indubbiamente diventa una occasione di rimbalzo piuttosto importante ovviamente adesso non ha purtroppo ancora fatto base ultimo argomento di cui devo parlarvi perché è l'ultimo tema importante di giornata è il settore lusso perché sono usciti i dati di Kering e non sono stati così eclatanti per cui si sta creando quel fenomeno di cui vi ho già parlato non riferito al lusso ma più in generale che sembra sia però un mercato da stock picking perché come abbiamo Brunello Cucinelli in area di massimi storici anche se come vi ho detto per me in quest'area sta distribuendo la certezza ce l'avremo se dovesse perdere 86 come abbiamo Montclair che è molto vicino è sui massimi di periodo ma molto vicino ai massimi storici che sono stati toccati nella terza settimana di novembre 2021 a 70.2 parliamo un po' delle più capitalizzate poi potremmo andare a vedere anche una F però è un po' illiquida Salvatore Ferragamo invece continua a soffrire ed è sul supportone di area 16 questo cosa significa? che oltre che di qui in avanti perché il trend è questo scegliere i settori più promettenti bisogna fare un attento stock picking dobbiamo scegliere attentamente i singoli titoli all'interno dello stesso settore perché alcuni fanno molto bene hanno dei rendimenti decisamente importanti quello di Bruno Cucinelli è per certi versi clamoroso e invece ci sono titoli come Ferragamo che stanno soffrendo peraltro perché i ricavi preliminari pubblicati qualche giorno fa sono stati abbastanza deludenti per questa mattina ho concluso ovviamente se perde area 16 purtroppo Ferragamo va subito a 15.31 e poi in area 15 per questa mattina vi dicevo ho concluso auguro a tutti buon training e noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno e noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno